Ciao a tutti! Lei da Elle e Magliana e insieme siamo le sorelle Pazzerelle. Ragazzi oggi vi porteremo 24 ore con noi al Parco Aventura. Faremo molte arrampicate, cose spericolate. Vettereggia si sta arrampicando. Ci arrampicheremo, scivoleremo, salteremo, faremo qualsiasi cosa. Soprattutto la mia cosa preferita del Parco Aventura è la carrucola. La carrucola è una cosa fantastica, quindi io l'adoro. Non vedo l'ora, quindi 3, adesso andremo lì. 3, 2, 1. Eccosi qui, siamo arrivati al Parco Aventura. Eccoci, siamo arrivati. Entriamo subito. Guardate ragazzi quanto è grande. È immenso questo Parco Aventura. Qua noi è la prima volta che ci veniamo. Di solito andiamo da altre parti. Sì, questo è andato due volte. Mettiamo questo com'è. È la seconda volta, è la seconda volta anche per lei. Sì. Per me è la terza volta. Ma è grande eh? Sì. Vero? Wow. Wow Desi. Eh? È bello eh? Sì. Stiamo cercando il nostro tavolo perché ci sono anche dei nostri zii. E stiamo cercando. Sì amici tutti. Ma è bello vero Mari? Sì. Eh? Desi ti piace? Sì. Eh? Ma tu le farei le arrampicate? Certo. Eh? 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 Attenzione. Uh guarda. Desi c'è anche il Parco con la sabbia. Wow. Eh? Che carino. Wow. Ma ci sono tantissime cose qui. Eh? Ma non ho mai visto un Parco Aventura con il Parco con la sabbia. È vero? Eh? Sì. Vogliamo andare a fare la rete? Sei sicura? Quella rete lì? Eh? Eh? Ci vogliamo andare? Andiamo vai. Sì. 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 Vai sotto la rete. Ah che paura. Oh ciao. Ciao. Ma dai ma è forte. Ma io ci posso salire qui? Ci posso salire anch'io? No. Eh? Ah 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 ah. Vai corri. Ah qua devi fare l'equilibrista. Vai. Ti puoi reggere se vuoi? Vai. Ma dai che sei bravissima. Vai 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 vai. Vai che adesso ti tuffi sull'altra rete. Vai tuffa di te sì. Questa è buona. Ah 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 fatto andiamo 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 di prendere un colpo perché ma dai no lo fanno tanti bimbi ecco la mari che parte ci sono paura vai accomodati pronta ho paura perché io ho paura di queste vai tirati si bene pronta via eccola tutto ok mari ho spazzuto un po troppo mi sei fatta male dai un po di terra dai sì ti devi reggere bene vai aiutala mari falla mettere seduta bene oggi ho già parte grande tesi è stata bravissima vai mari pronti 1 2 3 via ci sei riuscita hai visto come devo fare ragazzi come dobbiamo fare con marianna dove corri dove vai e corri non ho capito ma dai è carino si ti devi togliere le scarpe vai sulla casa sull'albero eh carino vai pronta ce la farai sì vai prima toccavo in terra eh adesso no adesso sali reagiti forte eh vai che sei arrivato adesso sì brava ecco la oh ma come sei alto sta oh brava salve la prima del mondo oh la c'è un'altalena quelle gigantesche che voli che forte quello sarebbe da fa che l'albero oddio ecco che si schiacciano vai spostati tesi aiuta siete pronte che vi faccio volare siete pronte adesso quasi pesa eh oh via oh abbassa la testa oh no vai mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia volete andare più veloce? nooo più veloce? nooo mi gira la testa eh facciamo l'ultimo? come oddio ecco che ahahah vai fermiamoci per adesso oh stop fine del giro ahahah mamma mia gira ancora un pa ragazzi come rivieni a sbattarmi mi ti aiutiamo scendiamo da qui e andremo a fare le arrampicate siete pronte? ma adesso? ma ci mettiamo al cielo Sì, adesso, siete pronte? Sì! Grazie. Siete pronta? Sì. Che carina. Adesso tocca a Dezi. A te ti peseranno queste corde? Mettiamo una più piccola. Non credi? Sono pronto. Sei pronta? Poi facciamo pure un percorso. Oh, ma non è che... Eh? Non è che cadi? Andiamo. Vai, venite, ragazzi. Vabbè, non si fa guardare... Come sei carina, Dezi. Dai. Dai, che poi forse dopo lo faccio pure io, perché questa arrampicata mi piace anche a me. Sei pronta? Poi, guarda, dove andiamo. Oh, ma non è che hai paura? Poi dove andiamo di là. Eh? Di là. Eh, boh, non lo so, adesso vediamo. Oh, qui abbiamo anche i poni, che carini. Andiamo. Ecco, Marianna che si prepara. Mari, è alto, eh? Sì. Sei pronta? Quando vuoi. Ecco, Marianna che parte. Aiuto? Già, già dice aiuto. Vai, Mari. Vai, Mari. Mari, come stai alta già? Non guardare giù, Marianna. Eh sì, sei pronta pure te? Te chiedo. Brava. Grande, Mari. Ciao, mi sono. Non riesco. Brava. Vai, c'è il verde su... Ok. Bravissima. Vai, che sei quasi arrivata. Vai, piccola, suona la campanella che ci sei quasi. Grande. Mari è stata bravissima. Grande. Grande, Mari. Grazie. Ti è piaciuto? Sì. Eh, bello, eh? Sono male, Mari. Però sei stata bravissima. Vai. Ecco che parte, Desi. Hai capito, Vale? Vai, Desi. Devi essere forte. No, no, no. Tieniti forte. Brava. Vai. Tieniti con i piedi, piccola. Brava. No. Tieniti con i piedi. Forte. Poi vai subire a cielo. Tieniti sempre forte. Bravissima. Ma sei Spider-Man. Sei fortissimo, sei. Ma sei più veloce di Mari-Anna. Brava. No, io ancora non stavo qua adesso. Ancora non stavo giù io. È vero, eh? Sei quasi arrivata. Vai, Desi, sei arrivata quasi la campanella. No, bella. Vai, scendi la campanella, piccola. Lei ci sei. Eccola. Guarda mia. Eccola, brava. Vai, scendi giù. Brava, Desi. Bravissima. Sto scalando una montagna. Grande, Desi. Batti cinque. Brava. Allora, è stato faticoso? No. Però, meno male che all'inizio ci stanno tanti scalini. È vero? Così hai modo di aggrapparti. Ragazzi, stiamo per fare un percorso. Desi, sei pronta? Prima l'arrampicata, adesso facciamo il percorso, quello più pericoloso. Infatti, qui vedete ragazzi, ci sono le cuffiette perché stiamo per metterci il casco. Però perché non dobbiamo cascare. Ecco, quel casco è pronto. Che sei carina. Gli capelli danno fastidio. Eh? Gli capelli danno fastidio. Non ci pensare. Ecco, Marianna. Siamo pronte. Ciao, Mari. Stai iniziando, eh? Adesso è ancora molto semplice. Vediamo Desiree. Ciao, Desi. Brava. Vai, coraggiosa. Guardate la faccia di Desiree, come è concentrata. Andiamo nel tunnel. Ecco, anche Desi nel tunnel. Ciao, Desi. Guarda, Desi. Bravissimo. Pronta, Mari? Brava. Brava. Vai, tu fatti, Desi. Bravissimo. Brava. Alza i piedi, alza i piedi. Brava. Vai. Vai, Rosso. Vai, vai. Qua devi essere veloce. Si abbassa. Eh, certo. E che, vai. Olco della mani. Brava. Guardate il viso di Marianna. Vai a mangi. Guardate il viso di Marianna. Il viso della paura. Eccola. Vai, Desi. No, guardate là. Vai, senza paura. Guarda lì. Capiti, guarda lì. Guarda lì. Vai, eccola pronta per un'altra carrucola. Pronti? Vai. Tuffati. Vai. Nel frattempo qui c'è Desi, Re. C'è i suoi tronchi. Desi, come sei concentrata? Niente, Desi non parla. Eccola, la carrucola alta. Allora, come ti sembra questo percorso? Bene. Ti piace? Oh, ma sei bravissima, eh. È la prima volta che lo fai, non l'hai mai fatto. Sei brava. Alla scala ho superato Marianna. È vero. Adesso dove dobbiamo andare? Siamo al terzo percorso. Terzo percorso. Questo inizia un po' più difficilino. Vero? Vai, Marianna, in equilibrio. Vai, mamma. Vai. Grande. Grande. Grande, vai. Adesso vediamo tua sorella come se la... Ecco, Desi. Bravo. Grande, Tete. Tu sei forte, sei. Sei coraggiosissima. Ecco, Marianna, che nel frattempo è andata molto avanti. Vai, Mari, che succede? Cosa sta succedendo? Non sta. Vai, veloce. Che è sta faccia? Marianna è rimasta incastronata. Mazza, che figlie forti che c'ho io. Oh, è caputo. L'ultima è difficilissima. Ok. Oh, Mari. Un'altra carrucola. Ecco che parte con l'altro percorso. La coraggiosissima Dede. Bravo. Bravo. Eccola alla carrucola finale. Eccola che parte. Ci siamo liberate delle imbragature. Sorelline, allora com'è andata? Bene. Vi è piaciuto? Sì. Molto. Forte, eh? Desiree non si scarica mai. Finito, già riparte. Ma ora dobbiamo andare via, eh? Che vuoi stare tutta la notte qui? Dormiamo sulla rete. Che dici? Facciamo un letto sulla rete. Eccola là. Ah, è arrivato il buio quasi. Siamo pronte per andare, è finita questa giornata. È tutto chiuso. Siamo rimasti l'ultimi, guarda, non c'è più nessuno. Un commento di questa giornata? Bellissimo. Bellissimo, vi è piaciuta? Oddio. Ecco Desi, il commento finale, una bella caduta. No, 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 no.